Oggi prepariamo il risotto. Allora ci vuole 40 grammi di burro, un pezzettino di dado di pollo, aggiungiamo il riso, aggiungiamo il programma soffritto per tre minuti. Il riso ha usato questo. Oggi faccio carnaroli per risotti pregiati, qui non si scherza. Fa tutto lui, io faccio i minuti, tre minuti sono passati, ok, adesso aggiungete, sarebbero quattro misurini quello che è in dotazione, quindi uno e gli altri tre li ho già versati qua. Chiudiamo, impostiamo il programma risotto che è il numero due, e adesso voi lo lasciate andare tranquillamente per 18 minuti. Ecco qua! Eccolo qua il risotto, guardate che spettacolo di 18! Guardate qua dopo, come dicevo, 18 minuti, io non ho fatto proprio niente! Adesso lo mantechiamo con grana, grana piacere, del gongorzola, uno, due, a due metri, va! Ci vedete! E lo fate mantecare per un paio di minuti. Pronto! Guarda! Vedete come si è sciolto, che profumo di gongorzola! guardate, che spettacolo di misa! Spero che piaccia il gongorzola, a chi non piace! Allora, uno, ecco qua! faccio sempre una porzione in più, perché così il giorno dopo vivo di rendita! Queste sono le due porzioni! Vi ricordate la marmellata di fichi? Prendiamo un po' di marmellata di fichi, e fate dei ciuffetti, piccoli ciuffetti. risotto, gongorzola e marmellata di fichi. Buon appetito! Buon appetito!